Musica Continuano serrati i controlli delle forze dell'ordine in tutta la fascia costiera del Ragusano, in questi giorni affollati da turisti e villeggianti. In particolare, i servizi disposti dalla Polizia di Stato riguardano sia la sicurezza in mare che il controllo del territorio sulle zone pedonali e a percorrenza veicolare di competenza delle principali località turistiche e blee. Sono già in servizio due potenti acquascooter condotti dal personale specializzato della squadra nautica che assicureranno il controllo della fascia costiera locale, verificando il rispetto delle prescrizioni imposte in atanti e assicurando anche un servizio di soccorso in mare. Le moto d'acqua targata e Polizia di Stato sono in grado di raggiungere infatti direttamente la biattigia implementando in tal modo anche il controllo sulle spiagge. Due poliziotte a bordo di speciali biciclette invece controlleranno le zone pedonali di Marina di Ragusa avendo la possibilità di vigilare più agevolmente le zone più affollate. Persona a bordo di un'auto elettrica contribuirà a vigilare tutta la zona portuale e limitrofa. Per il ponte di Ferragosto in particolare invece il comando provinciale dei carabinieri di Ragusa ha pianificato una serie di controlli in tutto il territorio al fine di fornire una continua tempestiva ed efficace assistenza quanti dovessero trovarsi in difficoltà e per prevenire e contrastare reati tipici di questo periodo. Sono state rinforzate le pattuglie soprattutto nelle ore notturne per la prevenzione dei furti in appartamento e delle rapine. Sarà alta l'attenzione nelle zone della Movida e su tutta la fascia costiera. In supporto all'unità di terra è stato anche predisposto l'intervento dei natanti dell'arma per assicurare che la navigazione avvenga in condizioni di sicurezza. I carabinieri saranno poi impegnati nei vari servizi sulle spiagge al fine di prevenire e reprimere il fenomeno del campeggio abusivo e dei falò di Ferragosto che ogni anno puntualmente si ripropone. Previste inoltre un'ità anti-borseggio nei luoghi turistici ed appositi controlli agli esercizi commerciali per verificare il possesso delle previste autorizzazioni per lo svolgimento delle attività. La città semi vuota con tutto chiuso è sempre più un ricordo. Ormai in quasi tutti i centri cittadini lo scenario estivo e del mese di agosto in particolare è cambiato. Parcheggi semi pieni, bancarelle del mercato affollate, saracinesche alzate. Sempre più persone bypassano le vacanze estive per optare per altri periodi dell'anno più abbordabili o riducono i giorni di vacanza restando più tempo in città. Lo stesso discorso vale per i commercianti. È sempre più raro vedere sulle vetrine i cartelli con le date di inizio e di fine ferie. È quanto emerge da un'indagine di Confcommercio che parla di tendenza al sempre aperto, dimostrata dalla contrazione del periodo di chiusura dei negozi al dettaglio. Impossibile non tirare in ballo le liberalizzazioni introdotte ormai da diversi anni dal governo Monti, che hanno lasciato la possibilità ai titolari di decidere autonomamente gli orari di apertura, penalizzando però spesso i lavoratori costretti a turnazioni sempre più serrate e orari di lavoro dilatati. Per chi resta in città però la comodità di trovare tutti i servizi sempre aperti. Servizi a 360 gradi, dalla ristorazione all'estetica, dai centri commerciali alle piccole botteghe, saracinesche aperte anche per le farmacie. Cambiati i tempi e i ritmi vacanzieri, anche per gli esercizi commerciali si adeguano. Un'indagine di Confcommercio Catania ha stabilito in definitiva che le saracinesche attive in territorio catanese saranno almeno del 50%, ancora di più nelle zone turistiche dove ovviamente si cerca di intercettare i turisti che puntano al Made in Italy. Arriva la possibilità di investimenti agevolati per le imprese del sud. Le aziende del mezzogiorno potranno infatti fruire di un credito d'imposta per acquisire beni strumentali nuovi dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, per ottenere le agevolazioni, gli acquisti anche mediante contratto di locazione finanziaria dovranno riguardare macchinari, impianti e attrezzature relative alla creazione di un nuovo stabilimento o l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente oppure ancora la diversificazione nella produzione o un cambiamento fondamentale del processo produttivo in uno stabilimento già esistente. L'agevolazione verrà applicata all'investimento netto e potranno accedere al beneficio tutti i titolari di reddito d'impresa indipendentemente dalla natura giuridica assunta dalla stessa. Il credito d'imposta riconosciuto sarà del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese. Gli interessati dovranno presentare la richiesta esclusivamente per via telematica. Se l'ammontare complessivo del credito d'imposta risulterà superiore a 150.000 euro, verranno effettuate le dovute verifiche previste dal codice antimafia. Il credito potrà essere utilizzato solo in compensazione e potrà essere cumulato nei limiti delle spese effettivamente sostenute con altre misure agevolate che non siano qualificabili come aiuto di Stato e come aiuti dei minimis. Banca Italia bocce concorsi pubblici nel nostro Paese. Secondo il paper pubblicato con il titolo Incentivi e selezioni nel pubblico impiego, in Italia non sarebbero premiati più meritevoli, anzi candidati migliori sarebbero addirittura penalizzati da quelle che vengono definite procedure bizantine. Tra le criticità riscontrate dall'ente di via nazionale, le procedure di reclutamento, con prove rigide che testano più che altro conoscenze nozionistiche. Con selezioni basate su questo tipo di prove, sostengono da Banca Italia, i candidati favoriti sono quelli che possono dedicare più tempo a prepararsi, generalmente non occupati. Nessun meccanismo nei concorsi nostrani che prevede di testare le reali motivazioni e ambizioni del candidato o sulle sue reali attitudini al lavoro. Si aspetta quindi la riforma Madia che dovrebbe mettere ordine nella giungla dei bandi e dei concorsi pubblici. Entro febbraio il testo unico sul pubblico impiego dovrebbe diventare realtà. L'intenzione è quella di snellire le procedure e ridurre i tempi biblici necessari a diventare dipendenti pubblici. Ci si avvia verso un concorso unico nazionale e uno locale da indire ogni due anni. Le procedure dureranno al massimo sei mesi e chi verrà assunto per la prima volta non potrà cambiare sede per almeno cinque anni. Le assunzioni saranno fatte in base ai bisogni dell'ente, non più partendo dai vuoti delle piante organiche. Il criterio sarà quello del budget. A cambiare dovrebbero essere anche i criteri di scelta. I concorsi saranno suddivisi in sezioni in base alle professionalità necessarie. Servirà a dimostrare di conoscere almeno l'inglese e sarà superato il requisito del voto minimo di laurea. Gli italiani sempre più indebitati è la fotografia scattata da Eurisk, il database gestito dal CRIF che raccoglie oltre 78 milioni di posizioni creditizie. Il 34% della popolazione è maggiorenne almeno un contratto di credito rateale attivo tra mutui, prestiti finalizzati e prestiti personali. In media per auto, case e vacanze l'italiano sborsa circa 360 euro. Ancora una volta lo studio mette in luce la distanza tra nord e mezzogiorno. Apparentemente, infatti, le regioni del sud risultano meno indebitate. La nostra Sicilia, ad esempio, si classifica solo al diciottesimo posto e tra le cinque province meno indebitate di tutta Italia due sono sicule, Enne ed Agrigento. Certo, in Sicilia e il sud in genere si deve considerare un dato non trascurabile che è quello dell'economia sommersa. Ma il quadro non sarebbe del tutto negativo. Secondo Antonio Patuelli, il presidente dell'ABI, la crescita dell'indebitamento non sarebbe necessariamente figlia della crisi economica e anzi potrebbe rappresentare una possibile ripresa. L'indicatore di una nascente speranza nel futuro è una maggiore predisposizione a spendere, fiduciosi di poter onorare gli impegni finanziari. Complice anche la ripresa economica che al sud sta interessando soprattutto gli ambiti del turismo e dell'agricoltura. Croce e Delizio è un festival delle arti contemporanee che dal 6 agosto al 30 settembre coinvolge Scicli negli spazi del convento di Santa Maria della Croce, alcuni tra i più interessanti protagonisti della scena artistica nazionale e internazionale, tra cui il fotografo Alex Maioli, il pittore Pierluigi Pusole, il designer Alberto Biagetti, il musicista e compositore Francesco Cafiso. Il corpus principale del festival, diretto d'annunzio Massimo Nifosi, filmmaker e artista visivo, è costituito da nature variabili. Un progetto espositivo e di residenze artistiche dallo spirito multidisciplinare, curato da Giuseppe Frazzetto, che unisce artisti di diversa formazione, pittori, scultori, designer, musicisti, videoartisti, filmmaker, performance e fotografi intorno alla presenza della natura maestosa e sublime degli Iblei. Lo storico complesso monumentale del convento di Santa Maria della Croce in Scicli, della prima metà del XVI secolo, che domina dall'alto il paesaggio circostante, con i suoi due chiostri, le sale, la chiesa, l'oratorio, le scuderie e gli ambienti delle celle, è il suggestivo luogo scelto per accogliere le opere degli otto artisti sciclitani, anche se alcuni di loro vivono e lavorano a New York, Modica, Roma e Milano, ma restano fortemente legati a Scicli. Si è cominciato sabato 6 agosto con la musica jazz di Francesco Cafiso e l'avvio del primo progetto espositivo. A seguire si è inaugurato il primo dei due progetti espositivi legati al tema della natura, Nature e Variabili 1, collettiva che avvia il percorso della residenza di artisti, con videoinstallazioni, installazioni fotografiche, pittoriche, installazioni sonore, sculture ambientate e design. A fine settembre sarà la volta di Nature e Variabili 2, con le opere site specifiche realizzate dagli otto artisti per gli spazi del convento e che verranno donate alla città. Nel corso del festival, un fitto calendario di appuntamenti prevede talk con gli artisti e curatori, studio visit, performance, proiezioni, presentazioni di libri, laboratori e approfondimenti teorici. Contemporaneamente al progetto Nature e Variabili, dal 6 agosto al 30 settembre, nel Belvedere, retrostante la chiesa, è prevista una rassegna cinematografica. Ogni sera, dalle 20 alle 23 e 30, in attesa dell'inizio della proiezione serale, verranno organizzati eventi musicali, letterari e enogastronomici. Si è concluso il Festival Canoro Internazionale Voci dal Sud con una vittoria tutta modicana. La piccola Flavia Garofalo aveva mosso i suoi primi passi canori proprio negli studi di Canale 74, partecipando e superando il casting per le selezioni e l'ammissione al festival tenuto da Peppe Mavilla. Quindi Flavia ha poi superato le semifinali di San Cataldo del 27 luglio, accedendo alla finale e vincendo il titolo della categoria junior. Flavia ha anche partecipato alla finale regionale per lo Zecchino d'Oro. Lo staff di Canale 74 augura alla piccola Flavia numerosi altri successi. Flavia ha anche partecipato alla finale regionale per lo Zecchino d'Oro.